Ciao a tutti, è un momento molto particolare per questo ho deciso di fare questo video. Voglio parlarvi del coronavirus e voglio dirvi poche cose però vorrei che vi rimanessero impresse. Una di queste riguarda l'informazione che purtroppo è trapelata, è passata, è stata pompata dai media, cioè che il coronavirus sia una normale influenza. Allora, questa informazione è totalmente sbagliata e fuorviante. Il coronavirus non è assolutamente una normale influenza, è un virus che causa una malattia che può attaccare i polmoni e può causare insufficienza respiratoria ed è per questo motivo che le terapie intensive, cioè le cosiddette rianimazioni, cominciano ad essere intasate, se non addirittura piene in regioni appunto come la Lombardia. Quindi è una notizia falsa e fuorviante. E invito i media, tutti quelli che fanno i talk show, tutti quelli che pensano al loro giusto share per carità, a non invitare più a parlare di virus politologi, opinionisti, filosofi, politici. Devono parlare di virus i virologi. Quindi chi non è virologo non si azzardi più a parlare di virus, perché avete contribuito i media a diffondere un'informazione totalmente sbagliata. Il secondo punto è, il problema principale non è tanto la mortalità di questa, la letalità di questa patologia respiratoria. Ricordiamoci che causa sintomi respiratori. Il fatto è che per sopravvivere, per cercare di superare la fase critica, chi va in fase critica ha bisogno delle terapie intensive. Quindi noi non possiamo sapere quando andiamo in giro se la persona di fronte a noi è una persona che ha il virus oppure no. Quindi l'unico modo che è veramente efficace è evitare i contatti per evitare i contagi. Evitare i contatti per evitare i contagi. Evitare i contatti per evitare i contagi.